Bentornati e bentornate qui su Heller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Heller e oggi voglio raccontarvi una storia bellissima. Parleremo della leggenda del filo rosso del destino, che è veramente una storia molto molto dolce. E se siete curiosi di sapere che cosa dice, ovviamente non vi rimane altro da fare che guardare questo video. Ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che pubblicherò. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Allora, a me piacciono tantissimo queste storie. Ci si può credere e ci si può non credere. In realtà si può credere anche all'anima gemella, oppure si può non credere all'anima gemella. Si può credere al destino, oppure si può anche non credere al destino. Fammi sapere se tu credi nell'anima gemella e se credi nel destino qui sotto nei commenti. Questa storia parla di un filo rosso del destino che pare essere invisibile, lungo all'infinito, indistruttibile e pare legare due anime gemelle per sempre. Questa leggenda nasce in Cina, poi si trasferisce in Giappone e adesso è arrivata praticamente ovunque, perché io su TikTok praticamente ne sento parlare quasi ogni giorno. E dice che questo filo rosso indistruttibile, indissolubile, lunghissimo e che unisce le due anime gemelle sia attaccato al mignolo della mano sinistra, quindi a questo mio anche bello storto, e che praticamente unisca per sempre queste due anime gemelle. Le due anime gemelle così indissolubilmente legate, prima o poi si incontrano e da questo incontro nascerà l'amore che durerà per sempre, forever and ever. Ovviamente è una leggenda d'amore molto molto romantica, per cui a me che sono una romanticona mi è piaciuta tantissimo, anche se non so se ci credo proprio tanto. Comunque, vabbè, vediamola un attimo, vediamo cosa dice. Praticamente questa leggenda racconta di questo guerriero che si chiama Wei, che gira, che va in giro, passa da un paese all'altro, finché non si ferma presso un tempio. In questo tempio incontra un signore molto anziano con cui si ferma a parlare. In realtà questo signore anziano non è altro che il dio dei matrimoni. Parlando con questo signore, il signore anziano, ovvero il dio del matrimoni, rivela a Wei che lui non si è ancora sposato, in quanto sua moglie, ovvero la sua anima gemella legata a lui col filo rosso del destino, è ancora una bambina e ha tre anni. E quindi gli dice, dovrai aspettare almeno 14 anni prima di conoscerla, perché la conoscerai quando lei avrà 17 anni. Te ne innamorerai perdutamente, la sposerai e viverete insieme per sempre felici e contenti. Però questa cosa qua del destino non gli piaceva molto a Wei. Wei era uno di quelli a cui piace credere che il destino non è nient'altro che il frutto delle nostre scelte e che non ci sia niente di scritto e di precostituito nella vita. Quindi anche questa roba del filo rosso, del destino, eccetera, eccetera, non gli piace proprio tantissimo. A tal punto che, proprio per dimostrare che era lui il padrone del suo destino e non che lui fosse il servo, diciamo così, o comunque schiavo del destino, chiede a un suo servitore di andare nel paese in cui abitava questa bambina di tre anni e di ucciderla in modo tale che lui sarebbe stato libero di scegliere chi amare. Questo servo va nel paese e cerca di uccidere questa bambina, ma la ferisce semplicemente alla testa. La bambina sopravvive e dopo 14 anni Wei incontra una ragazza stupenda, meravigliosa e se ne innamora perdutamente e decide di sposarla. I due si sposano e questa ragazza porta sempre una fascia sulla testa. Ovviamente si parla di migliaia di anni fa, quando ancora probabilmente c'era del pudore, perché ovviamente questa ragazza nella storia non si toglieva la fascia nemmeno per lavarsi. E dopo averla sposata, dopo tanto tempo, Wei chiede a sua moglie come mai lei non si tolga la fascia neanche per lavarsi. La moglie scoppia in lacrime e racconta tutto a Wei, quindi gli racconta di essere stata aggredita quando aveva tre anni e gli racconta di avere una grossa cicatrice sulla testa che gli era stata fatta da questo uomo che l'aveva aggredita tre anni, ma che non era riuscito ad ucciderla. A quel punto anche Wei si mette a piangere e racconta alla moglie che è stato lui a mandare quell'uomo a cercare di ucciderla, perché voleva dimostrare a se stesso e al mondo che il destino non esiste e che quella fosse solo una leggenda. Quindi praticamente tutte e due piangono, tutte e due si abbracciano e alla fin fine si amano per sempre forever and ever, come aveva detto il vecchio al tempio. Ragazzi, io non so, forse ve l'ho raccontata un po' ridendo, ma perché è una leggenda e ovviamente ricalca anche tradizioni e costumi di un altro tempo. In ogni caso, io non so se credo nel destino, in realtà io sono molto dell'idea di Wei e credo che il destino sia il frutto delle nostre scelte. Credo che ci siano sicuramente delle persone che probabilmente fanno già parte delle nostre energie, anche se non me lo so spiegare, anche se non credo nelle vite passate, però mi è capitato più e più volte nella mia vita di incontrare persone che mi sembrava di conoscere da sempre, anche se non le conoscevo affatto. E questo mi ha fatto tanto riflettere. Mi è capitato molte volte nella vita di voler bene a delle persone, nonostante queste persone non mi avessero mai dato motivi per essere amate da me. Mi è capitato di essere molto in confidenza con persone che non conoscevo da tanto tempo e di essere molto poco in confidenza con persone che conosco da una vita. E tutte queste cose energeticamente penso che abbiano dei percorsi che noi non possiamo definire. Quindi, sebbene io non creda nel destino, penso che a volte sia il caso di tenere una porticina aperta verso tutto ciò che non possiamo definire, verso tutto ciò che non conosciamo e verso tutto ciò che si dispiega davanti ai nostri occhi in modo sorprendente e meraviglioso e che noi non riusciamo a spiegarci. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi a proposito di queste cose. Qui sotto nei commenti sarò felicissima di leggervi tutti e mi piacerà tantissimo confrontarmi con voi su queste due tematiche. La leggenda è dolcissima, è una leggenda in cui mi piacerebbe tantissimo poter credere al 100%. Mi sono guardata per un'ora e mezza il mio dito mignolo nella mano sinistra per vedere se c'era attaccato un filo rosso più o meno lungo che fosse. Non l'ho trovato, ma sicuramente nella mia vita ho trovato la mia anima gemella e mi ritengo per questo una persona molto molto fortunata. Aspetto di leggere i vostri commenti, ma prima se questo video vi è piaciuto ovviamente vi chiedo di lasciarmi tanti e tanti like di supporto, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e tantissimo, ma tantissimo, rossissimo amore. A me non rimane che